Questo luogo nel quale ci troviamo, caro a tanti fanesi ma ultimamente poco animato, sta per rivivere una nuova fase? Sì, è una struttura importante, fra l'altro frutto di un investimento che la città, attraverso il comune e la provincia hanno fatto. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il rettore e il suo staff dell'Università di Bologna e abbiamo discusso del futuro di questo edificio, di questa struttura, di questo laboratorio. Ci saranno forti investimenti sia nella struttura dove l'Università interverrà per sistemarla ma la cosa importante e il valore aggiunto è proprio quella di aumentare l'attività di ricerca che c'è al suo interno ma portarci anche attività didattica attraverso un corso di altissima specializzazione europeo in lingua inglese sulla pesca. Quindi è un'opportunità straordinaria per la nostra città e c'è anche in prospettiva una collaborazione anche con altre università a cominciare da quella di Urbino e proseguirà il lavoro che è fatto in modo molto importante col professor Piccinetti a cui va il nostro ringraziamento perché è stata una presenza qualificata qui al laboratorio ma io dico nel nostro territorio. Ma non ci siamo fermati qui, c'è anche una collaborazione che vogliamo portare avanti come amministrazione perché c'è la volontà di riaprire anche il museo con gli acquari e renderli fruibili dalla gente quindi questo luogo tornerà ad essere frequentato sia da studenti ma anche aperto alla città. Quindi una grande opportunità, un grande risultato, dimostrazione che stiamo guardando anche ad una prospettiva di creare opportunità per i giovani ma soprattutto anche opportunità che possono avere ricadute importante. Quando ci sono attività di ricerca nascono spin off, nascono start up e quindi nascono opportunità anche di investimenti. Lo abbiamo visto anche con la felice scelta che si fece con biotecnologia che ha portato nel territorio risorse importanti, brevetti e anche investimenti con degli spin off di nuove attività scientifiche di ricerca. Quindi soddisfazione soprattutto perché non parliamo di tempi lunghi ma parliamo di tempi brevi.